soggetto la via della conoscenza attraverso attilio m soggetto dove sono io dove mi colloco in quale dimensione qual è la caratteristica di questa dimensione se non quella di non avere nessuno dei concetti che voi coltivate non solo non c'è tempo non c'è spazio non c'è pensiero non c'è immaginazione non c'è fantasia non c'è desiderio ma c'è il nulla introduco questo concetto perché mi servirà per quanto io dirò nella prossima riunione e in quelle che verranno c'è il nulla ma che cos'è il nulla per voi il nulla è la scomparsa di ogni possibilità di ogni desiderio di ogni aspettativa di ogni speranza di ogni progetto di ogni realtà per me il nulla è ciò che più amo è ciò che più mi appartiene perché è lì dove io mi espando pur non espandendomi dove io maturo pur non maturando più dove io comprendo senza osare la mente perché la mente non mi appartiene più questo è il luogo dove io sono il nulla ovvero sia la non presenza di alcuna forma di alcun dualismo di alcuna opposizione di alcuna realtà illusoria perché tutto è e dove sto non è un dove non è uno stare non è possibile descriverlo con parole umane eppure devo usare parole come vedrete io utilizzerò parole dopo parole negando e affermando in una successione continua proprio per dimostrarvi come tutto ciò che si può dire umanamente di questo luogo che non è un luogo non ha senso eppure lo ha perché vi aiuta a disarticolarvi dalle vostre credenze dai vostri modi di pensare al divino perché il divino sta oltre le vostre categorie le vostre concettualizzazioni i vostri ancoraggi quando voi tentate di sorpassarli vi piantate immediatamente in altri concetti sempre duali e non c'è modo di sfuggire a questo problema